ciao a tutti quanti allora oggi voglio giocare insieme a voi e cercare la parola più gettonata su gold iniziamo con ThePianist che è 110.000 volte contro PayDeep penso che PayDeep sia di più dai butto di più infatti è vero stiamo parlando di 2.000.000 e 240.000 PayDeep contro Charlin HeadBird penso che Charlin HeadBird sia di più di PayDeep infatti è di meno 450.000 ai 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 mannanzia neanche questa volta sono riuscita a salire fino alla metà ma me lo contentavo di poco però va bene lo stesso la prossima partita sarà spero cioè più o meno spero che sia aperto qualche risultato almeno spero al prossimo video